Sono stati chiusi circa per quattro mesi, ma dagli inizi di aprile dei 220 banchi del mercato di San Lorenzo non tutti ancora hanno riaperto. Del resto non c'è ancora abbastanza fiducia e poi gli incassi sono pochissimi, 20-30 euro al giorno, confronto ai 2, 3, 4, fino a 500 euro al giorno dei tempi prima della pandemia. L'Associazione Nazionale Ambulanti UGL chiede soprattutto all'amministrazione comunale un tavolo di confronto. Ci sarà il nuovo pianoare del commercio su Firenze, sì che ci sarà una riqualificazione degli spostamenti e anche il rifacimento dei banchi, dei centri storici. Noi siamo per restaurare i banchi, non per rifarli nuovi, semplicemente perché sono patrimonio storico i nostri banchi, hanno 100 anni. E buttarli via, questo non è il momento e nemmeno va recuperato ciò che è antico e di valore. Il mercato storico è conosciuto in tutto il mondo come mercato di San Lorenzo e non penso che non debba ritornare nella sua collocazione storica, che è Piazza San Lorenzo. I ristori anche sono stati molto pochi, sono stati 2.200 euro per tutto il periodo della chiusura. Sono circa 1.200 i banchi dei mercati storici a Firenze, 115 di loro hanno già dichiarato che non riapriranno se per il rinnovo delle concessioni verrà chiesto loro il DURC. L'associazione chiede di rateizzarlo. Noi lo chiediamo all'amministrazione comunale ma lo stiamo chiedendo anche al governo. Io martedì sarò presso il Ministero del Lavoro a presentare un emendamento perché il DURC non venga considerato negli anni di pandemia, perché le cartelle esattoriali si possono spalmare dopo aver rinnovato le concessioni in 5 anni dal momento del rinnovo. Grazie.